Parcheggi Rosa nel centro di Vittoria, posti riservati per le donne in attesa di un bimbo, che avranno così la possibilità di parcheggiare con più facilità. Li propone l'assessore alla Polizia Municipale, Piero Gurrieri. Di parcheggi Rosa si era parlato a Vittoria già nel 2006, quando era stata lanciata dalla consigliere comunale Giovanna Ragusa, in quel tempo componente della Commissione Provinciali Pare Opportunità. Non se ne fece nulla e cinque anni dopo la proposta viene rilanciata dalla giunta a Nicosia. Devo ringraziare sia l'assessore Piero Gurrieri che il sindaco Giuseppe Nicosia per aver rivalutato questa mia iniziativa proposta diversi anni fa. Tra l'altro devo anche dire che già il sindaco di Ragusa, Annello di Pasquale, qualche anno fa, subito dopo la mia proposta, ha realizzato questa iniziativa a Ragusa. Devo dire che la gente l'ha accorta bene, sono molto rispettosi e cortesi nel riservare queste postazioni riservate alle mamme in dolce attesa ed è un'iniziativa che vedo che anche a Vittoria, con questa attuale amministrazione, vuole essere riproposta anche per dare un segnale forte alla nostra bella e amata città. Quindi lanciamo un messaggio di cultura al rispetto sì della cortesia, della gentilezza, dell'educazione, ma anche al rispetto della vita e che questo ci sia da monito, perché anche i nostri giovani, i nostri ragazzi inizino a capire che la vita si deve rispettare sin dal momento del concepimento e quindi questi nostri piccoli concittadini, un giorno saranno loro, il futuro della nostra città, dovranno essere rispettati quando la mamma li aspetta nel grembo materno.